Per quanto mi riguarda, io sono in pensione, mi può dispiacere perché si può uscire poco, ma si può uscire poco anche ora, però dovremmo stare un pochino più attenti, se accelerassero con le vaccinazioni forse sarebbe meglio. Io personalmente la prima dose l'ho già fatta. Francamente se siamo rossi, non siamo noi a decidere, sono le alte sfere che devo pensare. Io vivo una situazione molto buona perché sono in pensione, per cui non ho problematiche. Certo tutta questa strada, le ristorazioni sono a disagio, per non dire messi in molto male. Io credo che ce ne fosse bisogno, eravamo veramente in situazione secondo me pericolosa. Nelle strade c'è ancora molti assembramenti, se si va in Borgo la Croce, insomma giù di là ci sono la sera tantissimi ragazzi, tantissime persone anche di una certa età che continuano a girare senza mascherina, bevendo, fermandosi. I vigili passano però mi sembra che non fermino nessuno. Io sono di questa zona quindi spesso passo per motivi e comunque non fermano nessuno. E allora vabbè, insomma se si deve fare lo facciamo, dispiace per i negozianti, più che altro per i commercianti di abbigliamento, per queste cose, però se è da fare va fatto, io penso così. Grazie. 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 Grazie.